Ciao Francesca, sorpresa delle sorprese! Ci troviamo qui, alla Locanda delle Rose, sulle Colline del Sole di Salzana e siamo in un posto incantevole. Indovinate un po' chi è la titolare di questo posto così carino, bed and breakfast? È proprio lei, il molto noto del TG! Anche lei, Isabella, nonché la nostra capoledatrice di Romansland. Ora vi volevo illustrare questo posto perché volevo farlo vedere a tutti quanti i nostri visitatori. Questa è l'apparecchiatura del mattino. Ovviamente il posto è certificato per i down-cari. Questa è la piccola cucina, ma non manca niente, c'è anche un bel lavabo in marmo di carana, bellissimo. E questo è il nostro letto dove dormiremo comodamente, insomma, per una notte romantica, per un momento straordinario della vostra vita. E non vi dico il panorama che c'è qui fuori, ma se lo volete vedere dovete venire a trovarci. Con questo invito di Isabella vi salutiamo, ma non prima di avervi lanciato il nostro fatidico Go Vegan! Grazie. 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 Grazie.